in cammino domanda chi di voi non ha mai cantato in un coro parrocchiale o quanto meno se siete andati a messa vi sarete imbattuti nel coro che animava quella celebrazione oggi proviamo a ragionare su quanto sia importante l'esperienza del coro del cantare insieme per camminare insieme se un coro è affiatato probabilmente lo è anche la comunità che lo accoglie la parrocchia in cui abita quel coro parliamo di questo argomento per capire meglio questo cantiere il cantiere delle diaconie della formazione spirituale sì perché per stare in un coro serve essere formati probabilmente anche ad una disciplina e poi il coro è servizio ed ecco là che arriva il concetto della diaconia ne parliamo con il studio bentornato padre lucio zappatore buonasera carmelitano fondatore del coro dei piccoli cantori di torre spaccata siamo a roma formatore pedagogista musicale parroco di san martino ai monti qui a roma insomma grande curriculum oggi in veste proprio di fondatore di questa grande realtà nata nel 1975 insieme a padre lucio c'è massimo versaci ben trovato ciao enrico direttore del coro giovani santarita uno dei coordinatori del progetto opa pubblicato centinaia di brani tra gli ultimi citiamo salmi nel canto l'amore fatta 2022 i salmi musicati per tutti gli anni liturgici in alcuni di avvento e quaresima i tempi forti avvento e quaresima e feste comandate tra l'altro tra gli autori dell'emmanuel l'inno della gmg del 2000 quindi ci fa piacere sempre ricordare questo questo suo sforzo musicale diciamo così partiamo anche da alcune date particolari dicevamo nel 1975 nasce nasce il coro dei piccoli cantori di torre spaccata ma 40 anni fa giusti giusti nasceva il coro giovani di santa rita siamo a torino parrocchia santuario secondo santuario dedicato a santa rita in italia dopo quello di cascia quindi anche una bella realtà di fede di tradizione 40 anni il mondo è cambiato il coro c'è sempre il coro è cambiato in 40 anni e beh si è cambiato è cambiato e si ci siamo anche un po imbiancati no vabbè io ci sono dall 83 da quando avevo proprio 13 anni 14 anni un vice parroco molto illuminato ci ha insegnato a gestire un coro in un modo nuovo per noi e quindi questo coro poi è riuscito a rimanere in piedi per così tanti anni coro giovani perché c'erano altri cori coro giovani perché si era una realtà che nasceva proprio dai gruppi giovanili della parrocchia quindi gruppi che erano animati c'erano c'erano i gruppi e si stava insieme nei gruppi e parallelamente si è iniziato a fare questo coro e questo coro adesso è diventato una realtà da subito diciamo ha fatto molte ha avuto molte vicissitudini ma è una realtà presente ed è una realtà che io considero pastorale cioè la forza ma non solo di questo coro la forza dei cori liturgici secondo me deve essere quella di essere alla pari con i gruppi giovanili quindi un gruppo pastorale un'esperienza pastorale che può servire ai ragazzi così come i gruppi giovanili o le esperienze di carità di missionarietà o le esperienze sportive nelle parrocchie ecco padre lucio zappatore era il 1975 nasceva questa esperienza fondata da te con il gruppo che avevi intorno perché in questa periferia di roma torre spaccata c'era bisogno di una realtà diciamo così artistica dunque nada come corretto della parrocchia per animare la messa dei fanciulli e basta poi l'intuizione aiutato da diversi professionisti di intraprendere il cammino della pedagogia musicale per cui lì si è aperta si è aperto un mondo proprio veramente la scuola la formazione l'educazione educazione di base per cui tutti i bambini sono stati coinvolti sempre di più poi man mano che crescevano continuava la scuola adesso ci sono i nipoti dei primi piccoli cantori di torre spaccata che continuano questo cammino questo processo ed è importante questo aspetto che diceva lui quello del del servizio no della diagonia io c'ho una gioia immensa nel poter dire che con i nostri piccoli cantori dal cantare in chiesa poi siamo andati a cantare negli ospedali siamo andati a cantare nei centri anziani siamo andati a cantare nelle carceri abbiamo fatto la messa di natale al carcere di rebibbia veramente un servizio incredibile massimo versaci spesso nelle parrocchie il coro viene concepito solo come servizio e già non è poco però il coro è anche molto di più relazione disciplina modo di stare insieme modo di ascoltarsi a vicenda imparare ad ascoltarsi in vicenda a vicenda spesso tu dici che la musica nel coro quantomeno in questa esperienza la vostra non è al primo posto la musica al secondo posto io quando un ragazzo vuole entrare nel coro mi dice normalmente la prima cosa è guarda che io però non so cantare però vorrei partecipare allora io dico guarda non ti preoccupare la musica al secondo posto perché prima vengono le relazioni abbiamo proprio festeggiato in questi questi 40 anni puntando su questo aspetto le relazioni che sono relazioni familiari per cui sono nate famiglie e sono relazioni che ci legano per la vita allora se io sono disposto a spendere la mia vita per qualcosa la devo spendere per qualcosa che mi segna nella vita e in questo modo queste relazioni ci aiutano a scoprire nell'altro l'esperienza di gesù cristo perché certo il catechismo quello che ci viene detto in chiesa ma poi lo devo sperimentare e dove lo devo sperimentare lo devo sperimentare negli occhi e nei cuori dell'altro e questa è una piccola citazione della della del motto ecco diciamo del del chase che che di fatto è molto legato anche al coro di santa rita perché don paolo fini fondatore di questo coro ecco è presidente del cts di torino padre lucio quanto cambia una comunità una parrocchia quando all'interno ci sono realtà come quelle del coro che funzionano aggregano cambia cambia veramente una cosa fondamentale perché lì si tratta al di là del coro liturgico proprio l'educazione attraverso la musica la musica che educa il cuore la musica che educa all'ascolto alle alle relazioni al coinvolgimento si parlava del coinvolgimento delle famiglie è tutto un movimento perché al di là del bambino che canta dietro c'è una famiglia che viene volentieri porta i bambini a questo e questo poi il discorso si allarga nella mia esperienza di torre spaccata addirittura si è creata un'isola un'isola fortunata con scuola di pianoforte flauto chitarra danza classica teatro cioè un polmone che coinvolgeva tutta la comunità parrocchiale e i risultati si vedevano a scuola con i bambini che erano più tranquilli perché io penso che nel giro dei primi 10 15 anni tutti i bambini del quartiere sono passati attraverso la musica c'è una tua massima potremmo dire con un aforisma di padre lucio insomma chi educa alla musica alleva artisti chi educa con la musica fa crescere persone ce la spieghi si si educare alla musica chi educa la musica in fondo prepara un artista a calcare le scene del teatro chi educa con la musica prepara un uomo a calcare la scena della vita ecco perché se arriva un bambino stonato per uno che educa alla musica il maestro gli dice va a giocare a pallone se arriva uno stonato dove si educa con la musica è il benvenuto come tutti perché attraverso l'educazione la musica diventa un fondamento insostituibile dell'educazione umana questo si ritrova anche nella dinamica del vostro coro giovani saltarita molto io penso che il coro sia una delle esperienze più inclusive coro parrocchiale ecclesiale perché con il coro tu puoi un po nasconderti un po farti forza con gli altri ed è anche un posto dove tu un po devi rinunciare a te stesso alla ad essere la prima donna e vuol dire il solista e al servizio del coro non il contrario ecco questo modo di affrontare il coro lo lo mette a confronto proprio con la vita con la vita vera ecco non solo un'esperienza artistica poi ovviamente se io lì dentro cioè i miei amici veri ecco perché condivido delle esperienze quindi esperienze che vanno anche al di della musica poi noi abbiamo una sensibilità musicale rivolta particolarmente al mondo giovanile ma tutte le esperienze musicali possono convivere e su questo io devo ringraziare a fasi alterne abbiamo avuto vicende in parrocchia in cui questa sensibilità musicale non sempre hanno educati anche i sacerdoti esattamente esattamente sì perché i sacerdoti non sempre riescono a dare no poi ci sono io io però un pochino in modo un po superbo forse però io dico anche ai sacerdoti e voi passate ma queste persone sono persone che vivono in questa parrocchia ci rimarranno queste famiglie rimarranno fortunamente noi adesso abbiamo un parrocco che è ok ci fermiamo solo per qualche istante andiamo in fascia pubblicitaria poi torniamo e andiamo a vedere questo compleanno questi 40 anni del coro giovani santa rita siamo stati lì con la nostra telecamera abbiamo raccolto anche alcune impressioni di giovanissime coriste anche del fondatore citato prima da massimo tra poco l'importanza dei cori parrocchiali in una comunità quando cresce il coro cresce anche la comunità scusate la rima baciata e oggi stiamo anche festeggiando se vogliamo i 40 anni del coro giovani santa rita di torino i 48 dei piccoli cantori di torre spaccata qui a roma con le nostre telecamere siamo stati proprio a torino durante la festa dei 40 anni del coro giovani santa rita vediamo la canzone che porto dentro di me e che mi è capitato più volte di andare in giro canticchiando forse sembrando un po' una pazza però e sicuramente sui passi dell'amore perché rappresenta proprio secondo me lo spirito del coro appunto seguire gesù sui passi dell'amore essendo tutta una grande famiglia che si vuole bene arriviamo qui sotto la tua croce l'idea del coro nasce nel 1983 decidiamo di fare qualcosa che innanzitutto servisse per aggregare nel coro abbiamo trovato sembra uno slogan abbiamo trovato la vita perché mia moglie è una ragazza del coro con il direttore del coro siamo reciprocamente testimoni di nozze ho iniziato a cantare nel corretto dei bambini perché entrambi i nostri genitori sono stati tra i primi che hanno preso parte all'iniziativa del coro giovani e quindi già da quando siamo nate siamo state dentro quest'ambito questa grande famiglia del coro sicuramente il fatto che siamo sorelle cambia la situazione perché ci supportiamo anche di più magari sono parenti amici stretti con cui comunque vivi già ma all'interno del coro rafforzi un po' il rapporto attraverso la musica la caratteristica del coro è l'inclusione l'imparare insieme lo stare insieme ore 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 per poter fare un canto bene questo richiede veramente una relazione nuova lo vedo come un appoggio nei momenti in cui magari sono più in difficoltà trovo che sia stato un grande percorso di crescita lo vedo principalmente nel mio credo e in quello che ho imparato nel modo di pregare nel modo di stare insieme nel modo di essere cristiana il coro ci riporta la partecipazione dell'assemblea ad una messa che è condivisa che è vissuta e che diventa un'esperienza se dopo 40 anni ci troviamo ancora e abbiamo ancora questa voglia di stare insieme di pregare insieme evidentemente il coro è quell'acqua che ha fatto germogliare quel seme e che è diventato un fiore sull'immagine di santa rita rientriamo in studio massimo versaci qual è il segreto di un coro che dura insomma ha compiuto 40 anni all'interno del quale ci sono genitori figli figli che vanno a cantare insieme ai genitori peraltro in chiesa per un'animazione liturgica diciamo che è rivoluzionario andare a messa con i propri figli finché sono piccolini e gridano in chiesa va bene io quando ogni tanto i piccolissimi figli di coristi che ovviamente girano lì gridano io dico sempre a quelli che magari fanno gli occhi storti ogni tanto vediamo sguardi di qualche qualcuno dell'assemblea che rimane un po così dico sempre ma quelli sono se sono educati così poi prima o poi salgono in pedana come coristi e infatti ce n'è tanti alcuni sono stati anche intervistati ma il segreto non è che c'è un segreto sicuramente non dipende da noi c'è un soffio che viene da molto lontano e questo soffio deve essere però ben aiutato e sicuramente attraverso lo stare insieme all'unisono cioè sta avere un unisono io dico emotivo vicini siamo vicini braccio a braccio nel coro infatti la pandemia ci ha tolto tanto nello star vicini stare vicini braccio a braccio vuol dire sentire quando l'altro è in difficoltà cercare di andare insieme di non lasciare indietro nessuno don paolo diceva l'inclusione esattamente questo e chi non sa cantare può fare delle altre cose nel coro abbiamo tante iniziative che vanno al di là della musica esperienze come missionari esperienze di carità ecco queste possibilità sono date a tutti cercando di non lasciare indietro nessuno e poi ecco la verità e la testimonianza di dire io spendo la mia vita per le cose importanti padre lucio dal servizio anche dal servizio vengono fuori delle delle parole impegnative aggregare includere relazioni crescita personale impegnativo mettere su un coro e il coro vuol dire che è importante come esperienza e per noi la svolta è stato credere nel valore educativo della musica la musica come parte fondamentale essenziale dell'educazione della persona e di tutte le cose belle che ha una persona oggi ci lamentiamo che i bambini sono nevrastenici aggressivi eccetera la musica educa proprio a questo a questa tranquillità consapevolezza attenzione e che porta a questo quindi nella nostra situazione concreta sicuramente il filo conduttore è stato l'educazione e poi credo che sia stato importante anche l'appoggiarci alla federazione noi facciamo parte della federazione internazionale e nazionale dei pueri cantores questo è stato un supporto straordinario anche perché ha arricchito i bambini perché grazie a loro abbiamo girato il mondo si sentono parte di un orizzonte molto largo si siamo stati in svezia a stoccolma i bambini da torre spaccata immaginiamo queste le distanze i bambini mi hanno detto a stoccolma padre lu guarda pure qui c'è ikea fantastico massimo versaci e nostro programma racconta del sinodo no abbiamo provato a raccontare il cantiere delle diaconie della forma formazione spirituale declinandolo nell'esperienza del coro cantare insieme ricorda un po quel camminare insieme no l'ascolto il verbo cardine del sinodo di fatto è anche l'azione su cui si fonda il primo passo del cantare insieme questo può aiutare diciamo che la metafora di tutta la chiesa quella del coro se vogliamo allora il coro in cammino viene in mente il coro degli ebrei quando quando escono dall'egitto no ecco e noi abbiamo un brano molto molto iconico in questo senso a cui siamo molto affezionati il coro in cammino perché non deve rimanere fermo in cammino come la chiesa in cammino come la come le persone che sono che fanno parte del coro ecco perché è necessario che ci siano una ci sia una progettualità e andare andare verso esperienze nuove non necessariamente nuove ma esperienze da vivere insieme diverse per mettersi al servizio della chiesa attraverso i propri talenti i talenti che partono dalla musica perché è più semplice stare insieme attraverso la musica perché la musica ce la ritroviamo in tutta la nostra vita ovviamente bisogna avere la passione e bisogna avere la passione per gesù cristo e la passione per 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 la musica e da qui anche con il coro di santa rita sono nate poi altre esperienze come i grandi cori op che hanno come cuore il coro di santa rita e con cui siamo riusciti a fare esperienze molto molto belle coinvolgenti a servizio sempre della chiesa padre lucio la musica avvicina dio è solo solo un luogo comune oppure così no no è una realtà assoluta cioè la bellezza viene da dio e la musica è una di queste bellezze che dio ha messo nel cuore dell'uomo betove ne diceva che dopo la fede la musica è il gradino che più avvicina a dio e io ne sono pienamente perfettamente convinto cosa speri massimo una battuta finale per i prossimi 40 anni del coro giovani santa rita ma allora intanto di esserci ancora magari non dirigere per non so se le braccia mi terranno ma ma spero che no spero che il coro ci sia ma ci sia appunto in un modo diverso in un modo diverso perché avrà scoperto altre strade avrà percorso altri cammini e intanto avrà dato sempre dei frutti per intanto per la nostra parrocchia perché poi sulle parrocchie si fonda si fonda la vita dei nostri ragazzi ecco intanto torneremo magari durante il giubileo del 2025 a raccontare i 50 anni eh il piccolo cantore di torre spaccata grazie a padre lucio zappatore grazie a massimo versanti per essere stati con noi per la vostra testimonianza in musica mi verrebbe da dire buon cammino e alla prossima noi ci ritroviamo domani sera per un'altra puntata di in cammino se volete saremo sempre qui dalle 19 e 30 buona serata presto grazie a tutti